Ok, ripartiamo subito, sono appena uscito dallo specchio e ora continuo nel nostro corridoio Però... No, ok, forse veniamo da di qua Quindi dovrò andare di qua, immagino Quindi non ci si può andare? Ma ci sono delle casse, ci voglio andare troppo Ah, c'è una rampa, quindi sicuramente dovrò andare da sotto a sopra Ok, quindi fuzzelli Scendiamo? No, sì, vai Vediamo cosa c'è sotto Allora, quello là è uno zombie, vediamo se ritiriamo la testa, posso in testa No, non l'ha preso Non è che ora quando posso io si attiva No, eh Perfetto Oh, c'è un tesoro Eh, di chi ti siamo? Così possiamo prendere quello nuovo Ok, saluto al massimo, non ce l'ho mai avuta penso Ok, quindi Ok Dardo della palestra, congelamento Temporano, nemici, esplode, congelano tramite alcune tipologie nemici Ok Perfetto, amico Qui cos'è c'è? Oh Spendiamo pure la luce che non ci serve Ok, non sa di morire No, sono ritornato indietro, che scatole Scusate ragazzi, mi sono confuso un attimo Che c'ha? Chi'è che mi osserva? Chi'è che mi guarda? Eh, ma che sorpresa Lo faccio io a sorpresa No, cosa fa? Tattazza È stato un po' brutto sprecare questo di una granata Che magari è meglio usarla contro i boss Però, eh, lo dovevo troppo fare Dio Madonna Cavolo, cavolo Rischioso è stata questa cosa Molto rischiosa Tattà Ok Ci siamo Qua non si passa Qui si può dare fuoco Vuol dire Tu cos'era? Ah, fantasca Questa è la scossa addirittura Ah, anche qui c'è qualcun altro Sento Mi spiaccichiccico Cos'è questa roba? Non è che mica mi scoppia Non è qui? Non si apre? No, non si apre Allora, se io mi avvicino qua Non è che questa roba schizza fuori Eh, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Chi è? No, è di nuovo questa Cos'è? No, no, no Porca puttana Il fuoco funziona No, il fuoco funziona Allora, diopono No Ah, non ce l'ho la granata Allora, lo devo fare Devo fare assolutamente Meno mai c'è stato questo esperiente Congelamento, accecamento Arpioni Incendi Eh, ho sortato incendi naturalmente Ok No, ho fatto l'arpione Oh Ma, me non ho Madonna Ho sprecato Delle munizioni per fare l'arpioni Ah Sono proprio Uno stolto Comunque Comunque Il fuoco Teniamoci, eh Ok Questo sicuramente Mi ha dato la cosa Per fare il fuoco Allora Incendiarò No No, no, perché Lo volevo fare Incendiarò No 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 Non C'è un uccello che mi sta volando intorno con la stata della madonna ma che cazzo sta scocciando però ecco madonna non so se l'hanno fatto perché per smorzare un po' la paura però un po' una cavolata l'ha fatto ridere simpatica no ah mamma mia ma vabbè se si è chiusa la porta ok qui incendiamo vuol dire che arriverà al mostro sta arrivando cos'ha questo rumore non mi piace ah mi sa che questa volta morirò ah lo sapevo lo sapevo no no vieni qua passala di qua dai ok bravo vieni cicciola vieni qua brava vieni non correre oh no ah quindi non è molto uno scappare oh cavolo 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 non so cosa fare non so cosa fare non so cosa fare devo trovare un altro posto di fuoco subito qui c'è un forno dio devo attivare il forno devo fare sicuramente qualcosa del genere la pasta ti bastate oddio allora interruttore che chiuderò nel forno dov'è dov'è cosa è non ci sta capendo nulla allora credo di aver capito che devo tipo chiuderla nel forno e bruciarla però non ho capito come attivarlo questo cavolo di forno ah dalla ah dalla ah dalla ah dalla no di o- ah eh giusto ah ah no sono salvo sono salvo Ce la posso fare? Non ce la faccio mai Ok, quindi Da qua sotto lo devo intrappolare In qualche modo Ok Corri Corri Jack Non ti fermare mai Vai così Vai così che la distruggiamo È morta Non è morta Non è morta Signore e signori non è morta La grande stronza non è morta Signore e signori Usiamo il congelamento Ok Cosa si fa? Interessante Seguimi, seguimi No, ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto No, forse lo fa Forse lo fa Io devo fare il modo Che mi segui da Che mi seguo da qua Quindi Aspettiamola qua No, maledetta Seguimi Seguimi Stellina Veni Veni ciccia Brava Mi sto affezionando sinceramente un po' No, no Però non correre così tanto, muore Non è morta Veni qua Veni Garva Ma Fantasca, no Perché Guarda come cavolo faccio io Salta giù Ah non così, giù salta Ma vai Ho sbagliato tutto ragazzi, ho sbagliato tutto Mi dispiace Ma sono un grande Ma sono uno strafigo Non so come ha fatto Oddio Stavo madonna Devevo rifare tutto No forse aveva fatto il check point Non lo so Però mamma mia ragazzi È stata una bella impresa Mi sono divertito Non posso Ah si posso andare a pigliare No non posso andare a pigliare Secondo voi muoio se vado lì sotto Oddio non so che fare Non so che fare Vai io vado vai No ok Chissà quanti punti mi dà 80.000 8.000 Sì 80.000 8.000 Scusate non so Non so contare Ah no devo fare scale Ok Tu 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 Palova Ai 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 Cantava